Wow. È venuto qui in vacanza? No, ho appena comprato questa casa. Mi hanno fatto un buon prezzo. Ah. Cosa? Questa zona si può definire gettonata per i suicidi. Cioè? Posso aiutarti? Tranquillo, sono qui per consegnarle la spesa. Aspetti, lei è John Holman. Qu'è il John Holman, la rock star? Cosa ci fa a Cipro? Mi sto prendendo una pausa dalla mia carriera musicale. Se vuoi vivere a Cipro, devi imparare a mangiare e bere come un cipriota. Ma la smetteranno di portarci cibo? No. Qui ho incontrato una ragazza molti anni fa. Cosa l'ha resa così speciale? Mi ha conosciuto quando ero me stesso e basta. Poi è sparita. Questa è Cipro. Ci sono molte donne adatte qui. Vieni, ti presento delle persone. Lei è Cia, il miglior medico dell'isola. Signori, lui è John. John è tornato. John! Ti preparo la cena stasera. Per chi è che devo preparare la cena? Nessuno. Cena galante? Non lo è. Cena galante. Ciao. Dai, entra. Per caso hai compagnia? Melina. Buonasera. Avevamo un appuntamento. Attento! Ma che diamine. Non sono ancora morta. Ci siamo. Una rentré da una rentré bello. Quindi sapevi. E mi hai mentito. Mi dispiace tanto. Quel giorno ti ho aspettata. Ero giovane. Avevo paura. Ha attraversato un oceano. E ha aspettato una vita intera. Come te. La miaermera è fatta. Sono forti. La mia persona è fatta. Quello che ci ha fatto. Ecco. La miara è fatta.